Verrà riproposto anche quest'anno il Giobbo Caffè, competenze e professionalità con il centro dell'impiego che incontra le imprese e i consulenti a Santo Stefano di Camastra. L'occasione sarà utile per verificare le esigenze legate ai fabbisogni del tessuto produttivo in relazione ai servizi pubblici per l'impiego, anche in un'ottica di innovazione dei processi produttivi, della fornitura di servizi e della commercializzazione nazionale e internazionale di beni e servizi, che è possibile integrare e sviluppare attraverso l'inserimento di competenze e professionalità adeguate. L'evento sarà coordinato dal consulente EURES Massimo Floridia e si svolgerà presso il centro per l'impiego di Santo Stefano di Camastra il prossimo 12 dicembre dalle ore 10 alle ore 12. Sulla scorta di quello che è già accaduto in questi ultimi 12 mesi ci riproponiamo di ascoltare nuovamente le imprese perché questo confronto è stato davvero molto importante. Siamo riusciti a venire incontro alle loro esigenze, abbiamo sperimentato dei percorsi, delle iniziative di inserimento lavorativo che poi hanno visto contrattualizzare le persone coinvolte. Abbiamo in estate sperimentato per la prima volta il tirocinio estivo per esempio anche dei minori e adesso questo strumento è stato regolamentato in maniera organica. Quindi vedremo cosa ci vorranno rappresentare loro ma questo potrebbe essere anche un modo per ripristinare un vivaio di risorse. Parleremo degli incentivi che ci sono sul tavolo del mercato del lavoro e soprattutto cercheremo di capire come scegliere le migliori persone da dare a loro disposizione per competenze e professionalità. Con questo evento che si svolgerà a Santo Stefano si concludono le attività rivolte alle risorse umane e al tessuto produttivo svolte da tutte le strutture dei centri per l'impiego della provincia attraverso le quali si assume un rinnovato impegno a garantire servizi più efficienti per le imprese.